Si sono svolti questa mattina nella chiesa San Giovanni Battista di Sapri i funerali di Gino Paesano, ex attaccante dell'Ebolitana, stroncato da un infarto a 49 anni durante la gara valevole per il campionato over 35 del CSI tra Sporting Vibonati e Pixus Policastro. Il bombardiere cilentano, così come era chiamato dai suoi tanti tifosi, è stato salutato per l'ultima volta dagli amici e i conoscenti, ancora increduli per quanto accaduto. Bomber di razza che lottava su ogni palla, Paesano ha giocato con Ebolitana, Sapri e Paganese.